12 squadre maschili, 11 femminili, centinaia di presenze tra atleti, tecnici ed accompagnatori ma solo due squadre sono ritornate a casa con la vittoria. Toscana Atletica Futura con 149 punti vince la classifica maschile mettendosi alle spalle la SSD Nissolino Sport 139 punti e la Varese Atletica 132 punti mentre tra le donne a trionfare stata la Lecco Colombo Costruzioni 142 punti superando la SD Cus Catania 135 punti e la SSD Nissolino Sport che chiude il podio con 130 punti. Entusiasmo che ha coinvolto anche Angelo Palmieri presidente dell'Atletica Agropoli siamo riusciti a promuovere a livello nazionale il nostro territorio ed a livello locale l'Atletica leggera ci abbiamo sempre creduto oggi raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Da oggi inizia un nuovo corso per l'Atletica Agropoli continua Palmieri torniamo alla vocazione originale ovvero agonismo e risultato andremo a scovare i nuovi campioni all'interno del territorio cercando di portare le nostre squadre nelle future serie B che speriamo di organizzare nuovamente ad Agropoli. Atletica ed Agropoli due parole che stanno bene insieme manifestazioni importanti come queste si possono fare solo con impianti all'avanguardia. Siamo contenti di aver puntato sullo sporto come volano anche per il turismo interviene così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola a margine delle premiazioni rivolgendo anche un pensiero per il futuro. Continueremo a puntare e ad investire in questo settore con l'obiettivo di ospitare altri eventi così. Ospite della manifestazione anche Franco Alfieri ex sindaco di Agropoli adesso primo cittadino di Capaccio Pestum che rivendica l'essere stato il primo a capire l'importanza dell'Atletica per la città di Agropoli. Sin da subito appena diventato sindaco abbiamo capito l'importanza dell'Atletica Leggera come una ulteriore opportunità per i ragazzi del territorio. Abbiamo investito continuo Alfieri e continueremo a farlo. Siamo pronti a far diventare il Cilento come un punto di riferimento nazionale grazie al progetto del Pala Indora Capaccio Pestum. Chiusi i campionati le attività dell'Atletica Agropoli ricominciano con le iscrizioni per la stagione 2021-2022. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata sul sito internet dell'Atletica Agropoli. Grazie. 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 Grazie.